Allora, avete finito adesso ai calci di rigori, la tua opinione su questo torneo e su come è andata la tua squadra? La squadra è andata bene, quando si perde di rigori è così, hanno fatto una bella prestazione, erano abbastanza forti in campo, malgrado il mese del digiuno, che non hanno ne mangiato né bucato, io sono soddisfatto, il torneo è una bella manifestazione, ha occupato il fine settimana completo, un sacco di gente che viene a vedere in più le altre, c'è tante squadre che giocano, finire adesso o dopo o prima è uguale, l'importante è partecipare, divertirsi, è un momento di incontro, grazie.